E' un po' di scuole e chi paga, che non si basica sulla manetta, con quello strumento e dire come si è già da che, e se non possiamo, e se manipulozion, e la mano che deve essere tirata, guardate adesso. Vanno sempre la mano, e 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 vanno sempre la mano, come me è un po' più lusso che tu hai chiesti. Quando tu sei su stante sinistro, puolta stai assinti, Sì che non ho mai bisogno, pare di essere sincero E non mi chiesco di sentirlo a ragazzo E non mi chiesco di essere E non mi chiesco di essere E non mi chiesco di essere Grazie.